Anna Sanline Andersen Revisore a chi non piacerebbe avere un robot in casa che parla e magari fa le pulizie, a voi piacerebbe? Penso a tanti! magari come questo alzate le mani per favore se vi piace a chi li piace non ne vedo nemmeno una qualcuno starà pensando che magari è un po' troppo realistico allora uno un po' meno realistico come questo alzate la mano per favore nemmeno una questo ad esempio ha dei tratti umani ma che sono semplificati vediamone un altro questo? si alzate la mano o io vedo tante mani alzate va bene ecco ma cos'è che ci fa avere paura di quelli che alla fine sono oggetti c'è una teoria al riguardo si chiama in realtà è un'ipotesi l'ipotesi dell'Uncanny Valley in italiano la valle è perturbante se poniamo sull'asse delle ascisse la vera simiglianza con l'essere umano sull'asse delle ordinate la familiarità che proviamo abbiamo l'ipotesi dice che abbiamo una curva che ha questa forma ossia un robot da essere una scatola di metallo man mano che ha fattezze sempre più umane noi proviamo più familiarità e empatia verso di esso fino a un certo punto in cui nella curva troviamo la valle la valle in fondo a questa valle troviamo dei magari capolavori di ricerca come quelli che vi ho mostrato che però essendo simili all'essere umano essendo quasi essere umano quel quasi è sinonimo di qualcosa che non quadra e cos'è che non quadra nel fondo della valle? possono essere dimensioni distorte come il caso di CB2 un robot bambino di uno o due anni o parti meccaniche miste a parti che sembrano organiche oppure dettagli che non corrispondono alle nostre aspettative o meglio alle aspettative del nostro cervello e tutte queste cose e l'ambiguità in sé della somiglianza possono rendere un robot inquietante ma c'è di più c'è un motivo ancora più profondo che è radicato nel nostro passato sicuramente tutti voi conoscerete film di fantascienza un caso famoso è quello di Terminator in molti di questi una storia comune è sempre quella dei robot che a un certo punto si ribellano e cercano di sterminare l'umanità tipico però questa non è una prerogativa dei robot perché già esisteva una storia precedente che conosciamo bene quella di Pinocchio un umano artificiale che a un certo punto va fuori controllo e prima ancora dagli inizi dell'ottocento la storia di Frankenstein in cui la creatura un'altra volta una creatura artificiale va fuori controllo e per questo viene chiamato complesso di Frankenstein bene ad esempio questo complesso non esiste in Giappone in Giappone i robot sono visti spesso come eroi che salvano l'umanità e hanno sentimenti un'anima e questa che vedete è una statua alta 20 metri che è presente in una piazza a Tokyo ma allora noi questa paura da dove l'abbiamo presa la nostra cultura deriva dall'antica Grecia e nella mitologia greca c'erano tante storie riguardo all'automazione come quella del pigmalione in cui egli scolpì un uomo che scolpì una statua di una donna e si innamorò di essa però non c'era niente di negativo in questa storia e in tutte queste storie di automazione quindi non abbiamo preso questa paura evidentemente dalla cultura greca per paragone vediamo anche in Cina per millenni hanno inventato loro gli spettacoli di ombre cinesi in cui queste marionette prendevano vita grazie ai movimenti di fili alle giunture e bene allora non lo sappiamo con certezza ma probabilmente la prima storia di questo genere di questa paura è la storia del golem fin dall'età medievale poi nel 1600 che è una storia di eredità ebraica questa storia il golem è una creatura fatta di argilla creata da un rabbino una creatura che non poteva né parlare né pensare andò fuori controllo dovette essere distrutta e questo è un esempio di hubris cioè della superbia in questo caso dell'uomo nel voler creare qualcosa di vivo artificiale quindi vedendo complessivamente occidente e oriente hanno radici molto lontane tra di loro ma da ambo le parti abbiamo storie di umani artificiali e nel presente però abbiamo da una parte il complesso di Frankenstein dall'altra parte un'immagine positiva cos'è successo nel mezzo che ha portato a questa diversione una possibile spiegazione è l'influenza delle religioni perché nelle religioni monoteistiche c'è una distinzione netta tra il naturale e l'artificiale quello che è creato da Dio quello che non è stato creato da Dio creato dall'uomo nelle religioni orientali ispirate al confucianesimo influenzate dal confucianesimo ogni oggetto ha un'anima torniamo al presente io ho lavorato e studiato tanti anni a Tokyo questo è il robot con cui ho lavorato è un umanoide molto avanzato che però a volte mi ricordava qualcosa bene disegnato da ingegneri forse è proprio questo il punto perché piuttosto che disegnare questi robot soltanto in base alla loro funzionalità forse dovremmo ispirarci al design proprio al campo del design come fa la Apple ad esempio che è un'azienda che ha saputo tra il revantaggio dall'unione tra tecnologia e design loro si sono avvalsi di un concetto di design chiamato schiomorfismo e la parola schiomorfismo deriva dal greco significa da schios contenitore e morfe che vuol dire forma significa creare un nuovo oggetto con l'apparenza con l'aspetto di un oggetto che esiste già con cui l'utente è già familiare e applicato a un'applicazione come la libreria alla sinistra vedete come era disegnata nelle prime versioni dell'iOS cioè con l'aspetto di uno scaffale di legno poi successivamente quando hanno pensato evidentemente che gli utenti ormai si erano abituati sono passati a un'interfaccia flat ma disegnare robot in base a questo concetto che cosa comporta? perché i robot sono possibilmente l'oggetto tecnologico più complesso che esista perché sono lo specchio dell'uomo allora se sono lo specchio dell'uomo evidentemente come abbiamo visto in precedenza parlando di cultura dobbiamo considerare la nostra cultura il nostro passato nel modo in cui li disegniamo se ci pensate le automobili sono personalizzate per i diversi mercati del mondo così come e tanti altri oggetti in vendita allora a maggior ragione i robot devono essere personalizzati e non possiamo prescindere nella cultura dal considerare anche la religione che l'ha improntata questa foto l'ho scattata all'isola di Pasqua e fa vedere proprio emblematicamente un moai con una croce quindi il pagano con il sacro vediamo un esempio il Dharma questo qui a destra è un talismano di buona sorte e protezione che è proveniente dal buddismo è molto comune quindi nella cultura anche sia in Giappone che in Cina e questo aiuta per chi ci crede a realizzare i propri desideri che lì nella foto stanno tutti scritti nei bigliettini a sinistra il Dharma in generale è un oggetto di piccole dimensioni che molti giapponesi tengono in casa allora prendendo questo come modello come ispirazione tramite schiomorfismo abbiamo realizzato un piccolo robot sociale per la compagnia degli anziani che assume l'identità del Dharma e questo io l'ho portato in un ospizio in diversi ospizi in Giappone o almeno un prototipo di questo e gli anziani come tutti sapete non sono propriamente amanti delle nuove tecnologie ne sono abbastanza intimoriti e quelli giapponesi non fanno eccezione però questo Dharma parlante non li ha intimoriti perché è qualcosa che conoscono già presente nel loro passato quindi abbiamo probabilmente con successo utilizzato la religione all'interno del design di tecnologia ma religione e tecnologia non sono campi uno all'opposto dell'altro non sono uno contro l'altro in realtà no la religione non è per definizione contro la tecnologia perché anche la religione si è evoluta passando dalla tradizione orale alla tradizione scritta alla stampa ai mass media e presto potrà trarre beneficio da nuove tecnologie come intelligenza artificiale per facilitare la diffusione e la robotica anch'essa ha delle origini molto antiche che si intersecano con quelle delle religioni Erone di Alessandria nell'età lenistica disegnò diversi automata così venivano chiamati dei marchi ingegni che eseguivano dei movimenti e questi venivano molto spesso messi dentro templi come l'altare a Dioniso che lui disegnò e in epoche successive il Maggio Sporzor che di queste opere di questi automati indovinate chi era? la Chiesa Cattolica alla ricerca di mezzi per impressionare i fedeli quello che vedete nel mezzo è il monaco meccanico commissionato come opera votiva da Filippo II di Spagna nel 1560 e da altre parti del mondo ad esempio in India da millenni si usano marionette durante le festività hindù e in Giappone in epoche successive con l'invenzione dei primi automata queste chiamate bambole karakuri venivano poste anche all'interno dei templi in generale per rappresentare il tema religioso si fa uso della bellezza si fa uso dell'arte dell'arte sacra e ad esempio la sezione aurea è un concetto che è molto utilizzato ed è frequentemente si può trovare frequentemente in molti opere in molte opere rinascimentali ad esempio di una certa importanza religiosa e come dice il Corano Dio è bello e ama la bellezza perché l'arte sacra non è soltanto l'arte un'arte che ha per tema qualcosa di sacro ma è intrinsecamente sacra perché tramite la bellezza trasmette il concetto di divino quindi allora forse abbiamo la chiave usiamo lo scheomorfismo ispirandoci all'arte sacra per portare qualcosa di familiare e in Italia siamo pieni di arte sacra nei luoghi più impensabili io un tempo non ci facevo caso vivendo a Livorno ma abituandomi ad altri paesaggi urbani adesso che torno mi saltano all'occhio molti dettagli tra cui ad esempio un elemento decorativo molto diffuso sono dei santi in una nicchia come potete vedere in queste foto lo scattate anche a Livorno e questi santini non hanno soltanto una funzione decorativa perché sono proprio un oggetto di conforto per un credente perché fanno da intermediario con Dio e perché contengono incorporano simboli bene basandoci su questo su questa ispirazione e vi presento il primo robot cattolico dai tempi di Filippo II di Spagna o forse sarebbe meglio chiamarlo un santo interattivo perché altro non è che un'opera di arte sacra con delle funzionalità innovative e vista l'occasione l'ho anche portato con molta delicatezza perché è sacro questo è è stato disegnato tenendo conto appunto dei canoni di bellezza ispirandosi all'architettura neoclassica e contiene delle dimensioni di sezione aurea e si accende semplicemente ponendo una candela elettronica e toccandogli le mani non ha altre interfacce come schermi telecomandi bottoni diavolerie elettroniche di sorta le componenti elettroniche come i motori il microfono gli speaker sono tutti contenuti sono mascherati dall'apparenza quindi sono sono nascosti dentro dentro il corpo del santo e dentro la nicchia e in quanto a contenuti questo contiene storie di vite dei santi sermoni preghiere può contenere un database di queste di tutte queste cose che lo rendono un compagno un plausibile compagno per la preghiera per tante persone anziane o sole che ne hanno bisogno e io l'ho portato in un ospizio in Germania questa è una foto in cui stanno pregando insieme il padre nostro quindi per concludere i robot sono oggetti complessi perché come lo è complesso l'uomo però i robot sono l'orizzonte e dobbiamo decidere ora come crearli per fare in modo che siano socialmente accettabili e perché siano accettabili serve che siano familiari perché siano familiari dobbiamo ispirarci alla nostra cultura al nostro passato e se esaminiamo la cultura dobbiamo anche considerare la religione e se tocchiamo la religione dobbiamo anche riesaminare e ristudiarci i canoni di bellezza e finisco con un invito in Italia siamo stati il centro dell'umanesimo quindi il centro dello studio dell'uomo e non solo siamo i maestri dell'arte nel mondo e inoltre abbiamo istituti all'avanguardia nella ricerca in robotica e nuove tecnologie allora con questi tre elementi dico io creiamoli noi italiani questi robot accettabili e soprattutto belli che rispecchino il nostro passato grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti